Buongiorno ragazzi, ci siamo. Oggi è la giornata in cui svelerò a tutta la mia famiglia chi c'è qui dentro. Sono super super emozionata e abbiamo deciso di fare questa festa a casa, come vi avevo anticipato, una festa molto molto semplice. E adesso andiamo un pochino a curiosare e soprattutto a chiedere agli invitati cosa ne pensano. Facciamo un sondaggio se maschio o femmina. Allora, questo è l'allestimento che è accaduto non so quante volte. È una cosa molto semplice. Queste scatole le ho fatte proprio all'ultimo e io ho deciso di fare una cosa molto molto neutra. Allora, adesso tutti diranno cosa pensano. Tu cosa pensi? Chi c'è qui dentro? È la femmina. Mamma femmina. Nonna maschio. E' maschio, si vede? Papà è maschio. Stai a scappertela. Dai! Eccolo. Guarda come vede, guarda. Ho fatto tanto, al terzo, già sbagliato subito. Ombretta? Io spero che sia femmina, però penso che è maschio. Maschio è maschio. Ma non hai detto femmina? Non hai detto femmina? Allora, io spero femmina e sento che è femmina, però se doveste essere maschio è grande sorpresa. Ok. Che te lo dico a poi? Maschio spaccato. Ma la portiamo sulla peruca. Ok. Femmina. Femmina. Sia? Io prima dicevo femmina, adesso 60% è maschio. Ok. Per il momento mi sa più maschi, vero? Penso di sì. Ok. Maschio o femmina? Maschio. Qua siamo tutti team maschio, mi sa. Ma perché credete o vorreste maschio così? Crediamo. Però preferireste la femmina? Beh, un'amichetta per sole, un'amichetta sorella. Quindi tutte e due maschio? Maschio e maschio. Tu? Ok. Ale. Maschio tutta io. Ma che prima erano tutti femmina, eccoli. Ecco, tia, qui chiederemo maschio o femmina? Femmina. Secondo te, chi c'è nella pancia di mamma? Maschio. Ok. Maschio. Cuccia, ci avevamo parlato, è maschio. È maschio. Ok. Tu ce l'hai ripensato. Patrizio, maschio o femmina? Per me pure è maschio. Maschio o femmina? Gimelli. Dai. Maschio. Chi te ha detto che è femmina? Sara, femmina. 100%. Ok, mi sa che manca solo Anthony. Con le scope dietro, maschio o femmina? Secondo me è femmina. Ok. Secondo te sole? No. È femmina. Che me posso mangiare, boh? Che me consigli? Tu me becchi sempre a mangiare, sembra che io non faccio mai niente. È vero. Patrizio anche sta preparando i caffè a tutti quanti. La quota 12 è un po' di caffè. Ci siamo, ci siamo, qui dicono tutti maschio. Maschio? Dicono tutti maschio. Io non lo so. Io e lui lo sappiamo, non è vero. Ma sicura che lo sappiamo? Noi lo sappiamo, quindi siamo pronti. Io non c'ero. Quattro euro è passato. Grazie a tutti. Allora, vi racconto perché lei lo sapeva, lei glielo ha detto, no, no, è questa la verità, se voi sapeva la verità è questa, allora, lei lo voleva sapere a tutti i costi, allora io ho detto a Cristian, facciamoglielo scherzo a mamma, e gli diciamo che è maschio, e lei ha fatto una faccia tipo, che non mi credeva, mi fa, mamma io so tu madre, guarda che lo so che non è maschio, è femmina, so convinta, tanto so sicura che sarà così, e poi ha detto, però mi ha fatto fare merdite giuramenti, noi l'avamo scamata subito, quando passi, se guardavamo io e Alessia, ma questa cosa, ma come facevano il sapello patrissima, era il sapello. Chi è quest'altra panciona? Lui è convinto che quando vanno a far merdite il maschio, dice lascerà Daniel, non l'ha capito che è femmina, è proprio della serie di mamma, è un ambolizzato il fatto che sia femmina. Ecco la torta, it's a girl, quella è la pronuncia esatta, eccoli, sole, un'altra femmina. Tre marcia dentro casa, vado, aiutami, grazie. Peccato che non lo posso fare io. Mamma della pancia, c'è una femmina, che menuccia. Andiamo a dormire? Eh sì. Andiamo a dormire perché sono molto molto stanchi, anzi prima ci andiamo a lavare i piedi. Ma sono mia sorellina, e non mi sono due. Ma è di tutte e due? Guarda che è di tutte e due, sole. Mi saluto con i miei gioielli, i miei quasi tre gioielli. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao. Ciao.